Ravina la banca carime di Latiano ma poi spende metà del bottino investiti per sfuggire alla cattura, ai carabinieri lo rientracciano e arrestano comunque. E' finita male l'avventura da ravinatore di Pasquale Amato, pregiudicato 38enne di origine torinese ma detenuto agli arresti domiciliari a Latiano presso una comunità. L'uomo intorno alle 12 della tarda mattinata di oggi, venerdì 3 febbraio 2016, era entrato disarmato e a volto scoperto all'interno della banca Ubi Carime in via di Polito a Latiano in provincia di Brindisi. Facendo credere al cassiere di essere armato si era fatto consegnare il denaro contenuto nel cassetto dello sportello circa 400 euro. Dopo essersene impossessato si era allontanato a piedi per le vie del centro cittadino. Per non farsi riconoscere il malivente era poi entrato in un negozio di abbigliamento dove aveva acquistato nuovi indumenti abbandonando nel camerino di prova del negozio quelli indossati durante la rapina. Dopo aver regolarmente pagato era uscito dal negozio subito fuori dall'esercizio commerciale e però stato fermato da una pattuglia che ha riconosciuto il volto dell'uomo dalla descrizione arrivata via radio dalla centrale operativa a tutte le pattuglie zona nonostante i vestiti fossero diversi. Il fermo prima e l'arresto poi hanno confermato la responsabilità del 38enne i cui abiti sono stati recuperati dal camerino del negozio. L'arrestato dopo le formalità di rito è stato portato nella casa circondariale di Brindisi.